Professor Clarice, giudizio sull'atto e giudizio sul rapporto nel codice del processo amministrativo. È un tema classico. Sì, grazie Presidente. Anzi, il titolo è un po' scontato e forse un po' stantio, ma questo dipende anche da un fatto che i curatori del volume sanno benissimo. Mi ero offerto a suo tempo di commentare l'articolo sulle azioni di adempimento. E essendo venuta meno la materia principale di quello che è il mio interesse a questo punto, forse il ripiego su un titolo di questo genere si spiega. In realtà non è neppure vero perché con questa transizione tra giudizio sull'atto e giudizio sul rapporto, nessuno qui vuole riprendere e riproporre le tesi più classiche e pure di giudizio sul rapporto, ovviamente, in realtà si ritrova frequentissimamente nella dottrina e anche in giurisprudenza. Cito soltanto uno degli ultimi scritti di Feliciano Benvenuti a commento del Decreto 80. Feliciano Benvenuti che non ha mai andato al di là della nozione del giudizio di impugnazione pura. E quindi uno dei coloro che hanno ricostruito anche il giudicato in termini di mero fatto e neppure di vincolo conformativo. Commentando il Decreto 80 dice che a questo punto siamo di fronte a un processo ibrido che tra quello classico del giudice amministrativo, cioè quello impugnatorio, e quello del giudice ordinario aveva presente soprattutto l'impatto dell'introduzione della consulenza tecnica come strumento di controllo, di accesso più pieno al fatto di controllo della discrezionalità tecnica. Ma anche la giurisprudenza è piena di, adesso non c'è tempo di farlo in modo accurato, di accenni a questa fase di transizione tra giudizio sull'atto e giudizio sul rapporto. Basta ricordare le sezioni unite, l'ultima, quella più importante, sulla pregiudizialità del 2008, la 30.254, dove c'è proprio tutta una parte in cui si prende atto sulla base dei soliti sintomi normativi, giudizio sul silenzio, 21 octies, eccetera, di questa trasformazione del processo. Ma anche il giudice amministrativo, più volte in sentenze anche recenti, basta per esempio prendere quella ben nota sull'azione di accettamento sulla denuncia di inizio di attività o dichiarazione di inizio di attività, o la scia, la sesta sezione 719.09, anche lì si ritorna su questo concetto, inteso che il modo più giusto di intenderlo, io ritengo, cioè non di giudizio sul rapporto, ma di quello che è il rapporto risultante dall'atto o già emanato o quello che si pretende che deve essere emanato in seguito all'accertamento della illegittimità dell'attività sulla base della DIA. Ancora, solo per finire questa parte, diciamo, introduttiva, pensiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato in alcune pronunce in presenza di poteri vincolati nel Consiglio di Stato, ad esempio la sesta sezione 2367-2004, ha parlato espressamente di giudizio sul rapporto, cioè di possibilità a chi ha il giudice amministrativo di andare al di là degli accertamenti contenuti nel provvedimento impugnato. Quindi quando si fa riferimento a questa fase di transizione, che continua a essere una fase di transizione, si ha più che altro a mente tutte le possibilità e i poteri che ha il giudice di andare oltre l'atto amministrativo, impugnato, quindi la ricostruzione autonoma del fatto, su cui tra l'altro ci sarà una relazione successivamente, il giudizio sull'aspettanza o meno del bene della vita che si vuole acquisire o conservare nei limiti in cui nel giudizio amministrativo si possa controllare anche la discrezionalità amministrativa, dove appunto su questo tema c'è un altro intervento sul quale non voglio soffermarmi. Dunque è corretto impostare in questi temi l'argomento perché in questi anni, negli ultimi anni, sono molteplici gli sforzi che in una logica di giudizio di spettanza e di correlazione dell'interesse legittimo al bene della vita, anche questa è un'acquisizione ormai pacifica nella giurisprudenza, non solo della Corte di Cassazione ma anche in giurisprudenza amministrativa. L'interesse legittimo, così come il diritto soggettivo, ha una connessione con un'utilità finale che si vuole acquisire o mantenere. Per esempio, chiarissima l'adunanza plenaria 6 del 2006 in materia di diritto di accesso, equipara diritto soggettivo e interesse legittimo come situazioni che hanno entrambe questa proiezione più o meno accentuata, ma sempre una proiezione di connessione con il bene della vita. E basta ricordare, faccio solo l'elenco senza neppure entrare, sulle novità che piano piano stanno emergendo anche nella giurisprudenza in materia di motivazione postuma, cioè di possibilità di inserire nel giudizio di connessione anche sempre con formule un po' qualche volta non dirette, allargare l'area dei chiarimenti richiesti all'amministrazione come strumento per andare a riempire di contenuto motivazionale un provvedimento che magari ha soltanto un riferimento minimo alla motivazione del perché è stata operata una certa scelta. Oppure anche una pronuncia, per ora credo isolata, del TARD Lombardia, con Milano 4.718 del 2008, in termine sull'interpretazione dell'articolo 10 bis sul preavviso di rigetto, dove si interpreta, proprio nella logica di un giudizio di connessione pieno, la formula prevista dalla legge 241 al 10 bis sul preavviso di rigetto, nel senso che l'amministrazione deve individuare nel preavviso di rigetto tutti i motivi possibili del rigetto dell'istanza. E a quel punto, se l'amministrazione assolvesse, e questa giurisprudenza mi sembra però isolata, lo richiede in una logica di giudizio di spettanza sul rapporto che l'amministrazione risce di sviluppi nella motivazione tutti i possibili motivi di diniego, a quel punto è chiaro che se il difensore, il ricorrente, impugna ciascuno di questi motivi, a quel punto l'accertamento, che è ormai nozione pacifica, direi, anche nel processo amministrativo, non è che dobbiamo ritornare a Piras, ma insomma l'aspetto del momento dell'accertamento, del vincolo che nasce dall'accertamento anche in un giudizio impugnatorio ormai scontato. E quindi se vengono esplicitati tutti i motivi di diniego, il ricorrente impugna e contesta ciascuno di questi, l'accertamento, e quindi l'effetto conformativo del giudicato, diventa molto più pieno. Ricordiamo ancora le novità in materia di assorbimento dei motivi. Qui il codice non c'è più la disposizione che la Commissione aveva proposto di ridurre la possibilità dell'assorbimento dei motivi, ma anche questi abbiamo delle sentenze molto importanti, ad esempio la stessa sezione, 213 del 2008, in cui si precisa che in presenza anche di un'azione risarcitoria non si può più semplicemente annullare l'atto in base al motivo di più semplice valutazione, ma occorre necessariamente spingersi all'esame di tutti i motivi che possano essere utili per valutare poi la fondatezza della pretesa in termini ai fini dell'azione risarcitoria. E ovviamente l'altra filone che credo sia molto importante è la giurisprudenza sul 21 octies, dove appunto, facendo leva su una norma contenuta da 241, ma l'ultimo comma del 21 octies, dove si richiede all'amministrazione, in caso di mancata comunicazione di rio del procedimento, di dimostrare in giudizio che il contenuto del procedimento sarebbe stato identico, anche qui si apre sicuramente nel processo una fase in cui si mette un materiale di cognizione ulteriore. La giurisprudenza sta oscillando su chi deve dimostrare che cosa, in giudizio, ma ad esempio la soluzione che mi sembra personalmente preferibile quella spessa dalla quinta sezione nel 2009, la sentenza 27-23, in cui si distribuisce l'onore probatorio, quindi il materiale di cognizione davanti al giudice, nel senso di chiedere al privato di indicare quali sarebbero stati gli elementi utili che avrebbe utilizzato se avesse potuto prendere parte al procedimento, e poi si impone all'amministrazione l'onore simmetrico di dimostrare che quegli elementi non avrebbero comunque condotto a una valutazione, a un esito diverso. Il codice, passando rapidamente alla seconda parte, cioè il codice che ci dice su questo processo di trasformazione o di ampliamento dell'ambito di cognizione del giudice amministrativo, sicuramente non fa passi indietro. Ecco, questa è la prima cosa che si può dire, nonostante sia stata espunta la norma sulle azioni di adempimento, le azioni di accertamento, e anche la norma sul divieto di assorbimento dei motivi. E questo perché? Perché, anzitutto, il codice, come questo è già stato detto molto bene nei primi commenti, cambia paradigma, cambia impostazione nel rapporto, nella visione del processo amministrativo, cioè si parte dalle situazioni giurisiche e soggettive, si procede all'analisi delle azioni ammissibili, quelle che sono azioni tipiche, tipiche, non sappiamo ancora, anche se molti commenti vanno nella direzione che il principio e la tipicità che già la giurisprudenza amministrativa aveva in qualche modo individuato, viene mantenuto, ci sono una serie di indici normativi sui quali non possiamo adesso soffermarci per brevità, per confermarlo, quindi situazioni soggettive, azioni e poteri del giudice, che è esattamente il rovesciamento di quella che è la situazione originaria del processo amministrativo, all'epoca dell'istituzione, la quarta sezione, in cui non c'era la situazione soggettiva, perché nessuno sapeva se era un giudizio oggettivo o soggettivo. L'interesse legittimo è nato come proiezione, come necessario punto sul piano sostanziale, per molti decenni, per giustificare poi il processo come processo di annullamento. Qui invece il codice definitivamente, credo, superi questa visione, anche perché è vero che la norma sulla giurisdizione, sul perimetro della giurisdizione pone l'accento sul potere o sui comportamenti, come abbiamo sentito prima, anche immediatamente riconducibili ai poteri, ma una cosa è il perimetro della giurisdizione, altra cosa è poi il processo che si svolge davanti al giudice amministrativo, dove c'è una sequenza quasi perfetta, partendo dal principio dell'effettività della tutela, articolo 1, che viene poi precisato nel principio della concentrazione delle tutele, sempre delle situazioni giudiche soggettive, delle azioni e dei poteri del giudice. Questo fa dire che quell'idea della, se si parte dalla situazione soggettiva e si accentua la connessione col bene della vita che si vuole acquisire o mantenere, a questo punto anche l'atto amministrativo è uno degli elementi, certamente quello principale, perché se c'è un atto che nega il bene della vita o lo sacrifica, necessariamente va annullato il provvedimento, quindi l'azione di annullamento resta sicuramente al centro del processo amministrativo. Però si può andare probabilmente al di là di questo, per esempio interpretando l'articolo 30, primo comma, sull'azione di condanna, come non limitato la condanna all'isarcimento del danno, si può costruire come è già stato fatto e come anticipo un articolo che uscirà sul giornale di diritto amministrativo, quindi faccio pubblicità a questa rivista, in cui ho cercato di sviluppare meglio questa argomentazione per sostenere che l'azione di adempimento si può costruire anche in assenza di, o meglio, avendo soppresso la norma specifica che la prevedeva. Dunque questo cambio di impostazione mette al centro la situazione giuridica soggettiva e non il potere, cioè il provvedimento. A questo punto vanno sviluppate nel loro più ampio ventaglio le azioni ammissibili, inclusa l'azione di adempimento, ma il codice contiene anche altri aspetti significativi che ci aiutano, ad esempio la disposizione che viene ripresa dal codice procedura civile sui fatti non contestati che diventano, che possono essere posti alla base della decisione. È un elemento estremamente importante perché il fatto non contestato evidentemente viene dedotto in giudizio, magari anche non provato, da una delle parti, ammettiamo il ricorrente, ma sicuramente non è un fatto che sta nel provvedimento, che non trova un suo riferimento, una sua prova direttamente nel provvedimento. Comunque può essere anche un fatto estraneo al provvedimento e questo ovviamente instaura una dialettica nel processo in cui ci sarà questo onere di contestazione del fatto, anzitutto a carico dell'amministrazione, che riversa nel giudizio degli elementi sicuramente che vanno al di là del provvedimento impugnato e che potrebbero essere determinanti ai fini eventualmente dell'accoglimento del ricorso. Ma sempre in questa logica ancora un po' impressionistica, tra l'altro questo come annotazione marginale del processo amministrativo è oggi meglio attrezzato in una dialettica e quindi una tale parte nel senso di consentire l'introduzione e magari la confutazione di elementi che non appaiono già nell'atto amministrativo. Il sistema della memoria, della replica si presta benissimo a questa logica di inserire strutturalmente nel processo elementi nuovi che poi vengono direttamente contestati nell'ultima memoria di replica. Ma nel processo amministrativo come risulta dal codice del processo amministrativo sicuramente abbiamo pezzi di giudizi chiamiamoli sul rapporto sicuramente la giurisdizione esclusiva su diritti ma questa non è una novità ovviamente. Il processo sull'accesso che è rimasto è uguale sappiamo già che la giurisprudenza va ben oltre l'atto di diniego eventualmente per accertare o non accertare la fondatezza della pretesa. Il giudizio sul silenzio ma anche su questo credo che il collega Centioli poi si soffermerà di più. è rimasta l'accertamento e la fondatezza della pretesa che la giurisprudenza fino ad oggi non ha enfatizzato come forse avrebbe potuto fare ma la giustificazione era che siccome è un processo rito accelerato rito semplificato non si presta a una cognizione che è ancora più ampia. Però se ammettessimo che l'azione di condanna all'azione di adempimento è inclusa nel primo comune dell'articolo 33 e che si proponerebbe insieme all'azione sul silenzio allora scatterebbe l'altra azione nel rito ordinario e quindi non avremo più questa giustificazione la norma del codice che prevede se c'è un rito un'azione soggetta al rito speciale e l'altra rito ordinario si va a rito ordinario. Quindi se ammettessimo l'ammissibilità delle azioni di adempimento unita all'azione sul silenzio avremmo un giudizio che si svolge secondo il rito ordinario quindi più compatibile con un accertamento più pieno della fondatezza della pretesa. Il giudizio sul risarcimento del danno già le prime pronunce che fanno leva sulla disposizione del codice in materia di contratti dove si parla di danno subito e provato applicano alla logica civilistica dell'onore della prova e quindi almeno per quel pezzo di processo non so se è un diritto soggettivo autonomo o comunque una pretesa correlata all'interesse legittimo non ci interessa ma sicuramente in quella parte del giudizio amministrativo si segue la logica dell'obbligazione risarcitoria e dunque con l'onore della prova pieno a carico di chi e quindi a mio avviso verrà progressivamente meno quella giurisprudenza in materia di contratti pubblici dove si parte dalla presunzione dell'utile al 10% poi con una serie di accorgimenti si scende fino al 5 al 3 a seconda dei casi probabilmente la logica del rapporto giudizio sull'obbligazione risarcitoria chiamiamola così richiede che non ci siano più presunzioni ma si usi lo stesso standard dell'onore della prova che si utilizzerebbe davanti al giudice civile la stessa aspetta la giurisdizione sul contratto anche qui si va a incidere sotto due profili c'è la domanda di aggiudicazione ormai pacificamente ammessa ci porta a un giudizio di spettanza e quindi il conseguimento dell'utilità finale che rappresenta anche qui un paradigma nuovo da questo punto di vista nel processo amministrativo è lo stesso potere del giudice di annullare il contratto con o senza efficacia retrattiva alla fine va a incidere su un rapporto giuridico che è sordo sulla base di un atto amministrativo ma l'unico punto su cui vorrei soffermarmi nei due minuti che restano sono le sanzioni la giurisdizione di merito sulle sanzioni sappiamo che il codice ha introdotto la giurisdizione di merito sulle sanzioni soprattutto pensando di dare una copertura normativa al potere che ha il giudice anche in esempio in materia delle sanzioni antitrust di ridurre l'entità della sanzione però per come è scritta la norma io credo che la giurisdizione di merito riguarda l'intero potere sanzionatorio che è stato nei casi in cui il giudice è amministrativo giurisdizione esclusiva e ora abbiamo anche l'estensione ai provvedimenti di Consob e di Banca d'Italia allora se questo è vero e si tratta di sanzioni pecuniarie tipo 689 quindi non correlate come alternativa ad altri strumenti dove si ricade una logica dell'interesse legittimo mi pare inevitabile che il giudizio in materia di poteri sanzionatori dell'autorità indipendenti ormai assegnato alla giurisdizione di merito segua le regole o dovrà seguire le regole che la Corte di Cassazione ad esempio la sentenza ultima una delle ultime delle sezioni unite del gennaio 2010 a 1786 la sentenza e la Cassazione hanno chiarito ormai in modo definitivo il giudizio sulle sanzioni è un giudizio di accertamento di una potestà sanzionatoria dell'accertamento dell'esistenza e inesistenza della obbligazione di pagamento della somma di danaro e questo al di là di eventuali imperfezioni e la motivazione del provvedimento al di là di eventuali vizi del procedimento se così fosse allora questa sarebbe davvero una novità estremamente rilevante sulle quali in ogni caso occorre riflettere per concludere io vorrei soltanto dire questo cioè che il codice del processo pur con la parziale delusione di chi si aspettava una maggiore aderenza alle disposizioni un po' più avanzate presentate dalla commissione comunque consente di ha rimesso in gioco ha dato un po' di dinamismo direi così al processo amministrativo e questa è una fase storica particolarmente interessante perché credo che sia i ricorrenti quindi gli avvocati sia i giudici abbiano la possibilità di forzare o comunque di sperimentare anche nuove vie rispetto a quelle tradizionali quindi dal concorso dei ricorrenti che provino a forzare alcune di queste disposizioni e anche la disponibilità del giudice a crescere l'effettività della tutela con gli spazi nuovi consentiti dal codice credo che sia un momento particolarmente creativo che per solo questo fatto il codice va salutato con favore grazie grazie professor Clarice ha toccato un tema per il quale noi magistrati credo che siamo piuttosto sensibili nel senso che è un tema che sta proprio al centro dell'evoluzione dell'ammodernamento del nostro giudizio amministrativo il quale sta passando negli ultimi tempi sta passando da un giudizio che fino a qualche tempo fa era sulla correttezza formale degli atti a un giudizio che va sulla sostanza del rapporto tra amministrazione e amministrato e questo succede per esempio come ricordava il professor Clarice stiamo svilendo il vizio di difetto di motivazione per cui noi in tutti i casi in cui abbiamo una censura che ci dice qui il provvedimento è viziato per difetto di motivazione ma se noi nelle carte negli atti troviamo i motivi che comunque sono acquisiti al procedimento noi quel vizio noi quella censura la rigettiamo per esempio anche interessante forse sarebbe da riflettere è questa applicazione del 241 la quale consente di ritenere non viziato il procedimento che è privo dell'avviso di avvio quando l'amministrazione dimostra che con qualsiasi cosa avesse detto l'interessato comunque il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche lì abbiamo dinanzi a noi questa contrapposizione di parti il ricorrente che ci dice io avrei voluto dire questo l'amministrazione che ci dice guarda che se anche avessi detto questo non sarebbe successo niente il provvedimento sarebbe stato sempre lo stesso e noi giudichiamo su queste contrapposte posizioni quasi un pezzo di procedimento che si svolge dinanzi a noi e che è proprio in quest'ottica di andare a una decisione che va alla sostanza del rapporto piuttosto che arrestarsi alle forme esteriori